I numeri sai, ormai sì è chiaro che fra tre gol potrò passare Baggio e ci tengo perché Baggio è stato un grande, ha fatto 318 gol, me ne mancano tre, insomma si arriverà ma non è questo il mio obiettivo in questo momento, è tornare a essere un giocatore importante per il Milan come lo sono stato in questi 11 anni. Questo è il mio obiettivo, penso che come ho fatto in questi due mesi di allenamento dando continuità agli allenamenti, dimostrando al mister che può contare ancora su di me poi insomma come ieri magari mi può mettere dentro e lì sta a me, cercare di far vedere che sto bene come penso di aver fatto in quei 12 minuti di ieri.